Individuati i presunti aggressori del parroco di Varapodio, i carabinieri della compagnia di Tauria Nova sono riusciti a ricostruire quanto avvenuto nella serata del 15 gennaio scorso all'interno della chiesa di Santo Stefano di Varapodio. Don Giovanni Rigoli, parroco di quella comunità, al termine di una messa di suffraggio per una emigrante da poco venuta a mancare, è stato aggredito da alcuni parenti di quest'ultima, riluttanti a sottostare ad alcune disposizioni parrocchiali circa la liturgia. Due cugini, uno di Varapodio e l'altro di Tauria Nova della defunta, sono ritenuti i presunti autori dell'aggressione avvenuta all'interno del luogo sacro. A chiarire i motivi abbietti di un gesto tanto spreggevole è stato lo stesso parroco che ha raccontato ai militari di essere intervenuto al termine della funzione religiosa per garantire l'applicazione delle disposizioni curiali ed impedire che al momento delle condoglianze all'interno della chiesa si creasse un assembramento di persone. Uno dei due cugini ha afferrato il parroco per i polsi, lo avrebbe strattonato e intimato a lasciare immediatamente la chiesa. Il secondo, approfittando del fatto che il prelato fosse immobilizzato, alle sue spalle gli avrebbe dato una testata.